LEGO Creator Expert, questo albero bonsai, una linea un po' particolare di questi prodotti. Si tratta di un bonsai, una versione un po' nature della LEGO, un bonsai con il suo vasetto, con il suo supporto in legno ovviamente finto, che si caratterizza però per avere dei fiori intercambiabili che si possono mettere o togliere per avere la versione verde, quindi solo foglio oppure fiorita, in modo tale che lo si possa anche far fiorire in primavera in questa maniera con la struttura poi che resta tale e quale. Le dimensioni sono di 18x21x20 cm, si tratta di un set abbastanza completo e soprattutto molto molto fine, molto molto elegante, pensato per persone, grandi cell over 18, quindi maggiorenni e sono 878 pezzi, probabilmente tanti di questi fanno parte di ciò che si può togliere e mettere in base alla stagione, quindi le foglie, però lo trovo veramente molto molto elegante. Difficilissimo fare una valutazione di rapporto qualità-prezzo perché guardando in questo momento non è disponibile se non tramite venditori terzi, nuovo costa 74€, mentre nei giorni scorsi nuovo costava 49€, ora per 49€ assolutamente sì, anche perché è un'idea regalo che è fatta a chi ama i bonsai, piuttosto che la natura, le piante, veramente lascia a bocca aperta, io l'ho fatto vedere ad alcuni amici che sono venuti a trovarmi e nessuno sapeva o immaginava che l'ego andasse a produrre prodotti legati al mondo della natura di questa tipologia, ha lasciato tutti a bocca aperta per cui sicuramente sarà un regalo molto gradito. 74€ prezzo attuale, beh mi sembra un po' caro 74€, mi sembra eccessivo, però se fosse venduto come di solito è attraverso Amazon a 49,99€, beh sì, assolutamente sì.